La centralissima piazza Camillo Costanzo di Bovalino si è animata, come ogni anno puntualmente accade, di prestigio, grazie alla presenza di personalità d'eccellenza provenienti dal mondo della cultura e dello spettacolo, tutti riuniti per la consegna dell'ambito pericle d'oro, giunto ormai alla sua ventottesima edizione e dedicato alla pace nel mondo. Premio assegnato tra gli altri quest'anno anche a Vandaferro, prima donna in Carabria, ad essere eletta presidente di provincia. E' la presidente della provincia di Catanzaro, la sua statuetta l'ha voluta condividere idealmente con tutte le donne calabresi. Un riconoscimento che sicuramente ho accettato con grande orgoglio perché è un premio Made in Calabria e soprattutto un premio che premia la prima donna alla guida di un'amministrazione provinciale che sento di condividere con tutte le donne di Calabria, con tutti coloro che mi hanno onorato della loro fiducia. Ospichiamo ovviamente che questa sensibilità al femminile possa portare quel valore in più per quella Calabria che tutti quanti noi vogliamo. Novità dell'edizione 2014 del pericle d'oro è stato il premio intitolato al compianto Pasquino Crupi, consegnato con la motivazione dell'impegno e delle energie impiegate nella ricerca sulla letteratura calabrese. Assegnato a Piero Sansonetti, direttore delle Cronache del Garantista. La sezione del premio dedicata al giornalismo intitolato a Gino Gullace è andato anche a Laura Tangherlini di Rai News 24, Cristiana Ruggeri della redazione esteri del TG2 e ad Emanuela Gemelli del TGR Calabria, oltre che al giornalista Rocco Valenti, direttore del quotidiano della Calabria. Consegnato il premio Ellade a Monsignor Francesco Milito, Antonio Vincenzo Lombardo, Francesca Stilla, Stefania Marrazzo, Annalisa Mongiardo e infine a Gino Mirocle Crisci, Giovanni Battista De Sarro, Francesco Luzza e Saro Catanese. Il Gino Gullace dedicato al libro dell'anno infine è andato all'avvocato Giuseppe Galati.